Rieccomi qui carissimi telespettatori di TV6, rieccomi qui all'appuntamento col meteo per questo venerdì. Un'altra giornata direi stabile su gran parte del territorio nazionale, qualche temporale sulle Alpi, nulla di eccezionale, qualche temporale tuttavia potrà svilupparsi anche lungo l'Apenino, in quanto affluiranno correnti più fresche dei Balcani, di origine nord-europea, correnti fresche che ovviamente manterranno le temperature attorno alle medie del periodo o leggermente al di sotto di esse e porteranno quindi qualche nota instabile che si manifesterà anche in Abruzzo. Notate infatti la possibilità di isolati temporali nelle aree più interne in montagna, sulla Marsica, l'Alto Sangro, localmente la Maiella, parliamo di temporali spazi pomeridiani di breve durata, quindi molto localizzati, altrove sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie con massime tra i 28 e i 30 gradi, minime tra i 17 e i 23 gradi, valori più bassi ovviamente negli aree interne dove vivremo un'altra notte direi molto molto fresca. Con questo concluso ci risentiamo nel prossimo appuntamento.